Rizzo è arrivato a questa vittoria per il World 3 87, però una vittoria che non vi è bastata per i play-off, peccato. Peccato sì, ci abbiamo messo tutto, ma troppo è andata a mano, sicuramente non abbiamo perso i play-off, sono riuscito qualche giornata fa, ma sono stati fin bravi con tutti i frattori che abbiamo avuto, essere sempre lì a giocarcela, purtroppo è andata male, facciamo i complimenti a chi è riuscito ad arrivarci. C'è un po' di rammarico immagino? Sì, assolutamente sì, è una tristezza, ci abbiamo messo tutto e niente. Grazie, complimenti comunque per la vittoria, perché comunque avete vinto e grazie da tutta settimana sport. Grazie davvero. Grazie a voi.